Il fondo di investimento PAPEL sta valutando l'investimento in un titolo obbligazionario e vi chiede di esaminare le obbligazioni A e B esposte in tabella. Allora quindi vediamo che sulle due linee sono presenti le informazioni sull'obbligazione A e sull'obbligazione B sono presentati entrambi i valori nominali supponendo entrambi uguali a 100 è presentato il prezzo dell'obbligazione B che è di 96 il tasso cedolare è pari allo 0% quindi vuol dire che l'obbligazione B è uno zero coupon bond e scade dopo 4 anni mentre per quanto riguarda invece l'obbligazione A non ci è dato il prezzo però ci è dato il tasso cedolare e ci è data la scadenza e poi ci è dato anche lo yield to maturity che sarebbe appunto il tasso di rendimento effettivo a scadenza di questa obbligazione il tasso di mercato sostanzialmente dell'obbligazione. Calcolate i valori mancanti quindi mostrando i calcoli e completate la tabella sopra riportata. Allora cominciamo quindi dalla prima tabella Allora partiamo dal dato mancante ovvero dal dato mancante circa il prezzo dell'obbligazione A Allora cosa sappiamo dell'obbligazione A? Sappiamo che la durata è 5 anni quindi tiro la linea del tempo 0, 1, 2, 3, 4, 5 Sappiamo che il valore nominale a scadenza è 100 quindi vuol dire all'epoca 5 il valore nominale che verrà pagato è pari a 100 Conosciamo il tasso cedolare che è il 3% quindi vuol dire che questa obbligazione paga delle cedole annue o perlomeno supponiamo così visto che non ci danno altre informazioni pari al 3% del valore nominale che sarebbero poi gli interessi che ad esempio l'azienda che emette queste obbligazioni andrà chiaramente a pagare agli obbligazionisti di questa azienda di conseguenza quindi il 3% di 100 sarebbe 3, 3, 3, 3, 3 quindi per 5 anni l'azienda, diciamo l'investitore riceverà un interesse positivo se sta acquistando l'obbligazione pari a 3 Perfetto, lo yield to maturity lo yield to maturity chiaramente è il tasso di mercato che noi dovremmo andare ad utilizzare nel processo di attualizzazione è pari al 2,57% Ora chiaramente il prezzo di questa obbligazione A può essere calcolato andando ad attualizzare i flussi di cassa diciamo di questa obbligazione e quindi potremmo tranquillamente fare o 3 per 1 più il 2,57% alla meno 1 più 3 per 1,2 più il 2,57% alla meno 2 più 1,0257 alla meno 3 più 3 per 1,0257 alla meno 4 più 103 per 1,0257 alla meno 5 chiaramente il processo è leggermente lungo quindi possiamo usare questa strategia di considerare quindi questa rendita di rata 3 cioè pari all'importo della cedola quindi pari all'importo degli oneri finanziari degli interessi attualizzati chiaramente per 5 anni al tasso del 2,57% e quindi andremo a fare 3 per 1 meno 1,0257 alla meno 5 fratto 0,0257 quindi 1 meno 1 più il tasso alla meno n fratto il tasso più chiaramente separatamente andare a prendere quindi il valore nominale di questa obbligazione e attualizzarla chiaramente di 5 anni quindi più 1,0257 alla meno 5 e a questo punto facendo questo conto arriveremo a 102 euro in realtà in maniera più precisa 101,99 euro per quanto riguarda invece l'obbligazione B i dati che conosciamo sono il valore nominale a scadenza con una scadenza a 4 anni e un prezzo attuale di 96 euro quindi questo è quello che conosciamo è uno zero coupon bond viene emesso oggi con un prezzo di 96 scade fra 4 anni il valore nominale che sarà restituito è 100 e noi dovremo calcolare lo yield to maturity ovvero il tasso effettivo di interesse a scadenza in sostanza ora ricordando che dietro il prezzo dell'obbligazione abbiamo l'attualizzazione dei flussi di cassa di questa obbligazione essendoci un unico flusso di cassa possiamo scrivere valore nominale per 1 più r ovvero 1 più y alla meno 4 oppure fratto 1 più y o 1 più r insomma r o y identificherebbero yield to maturity ovvero la nostra incognita alla quarta al denominatore ora chiaramente siccome il nostro scopo sarà trovare il tasso di interesse quindi questo che ha il denominatore a destra lo portiamo al numeratore a sinistra e pb che sarebbe il prezzo dell'obbligazione lo spostiamo dal numeratore a sinistra al denominatore a destra quindi abbiamo quindi 1 più y alla quarta uguale al rapporto fra il valore nominale e il prezzo chiaramente siccome vogliamo ricavarci il tasso eleviamo tutto all'un quarto a destra a sinistra e poi sottraiamo 1 e quindi abbiamo tasso di interesse uguale rapporto fra il valore nominale e il prezzo tutto elevato all'un quarto meno 1 a questo punto i giochi sono semplici basta andare a inserire i valori 100 che è il valore nominale fratto 96 che sarebbe il prezzo tutto elevato alla un quarto ovvero sotto radice quarta meno 1 il risultato che ci uscirà sarà 0,01026 ovvero l'1,026% e così abbiamo completato i dati mancanti della tabella ora proseguendo ci dice che il fondo Paypal per avere questo ed altri esercizi sulla finanza aziendale ti consiglio di acquistare l'eserciziario di finanza aziendale in cui troverai un'ampia gamma di esercizi riguardante tutto il programma di finanza se invece fai in specifico l'università di Bergamo ti consiglio di acquistare l'eserciziario specifico per l'università di Bergamo e ovviamente per avere tutta la teoria dettagliata su tutti gli argomenti vai sul videocorso di finanza aziendale se invece vuoi andare a mirare la tua attenzione su specifici argomenti abbiamo quello che riguarda il rendiconto finanziario il prezzo di azioni e obbligazioni la valutazione di progetti i titoli di portafoglio la struttura finanziaria dell'impresa e la struttura finanziaria dei progetti in cui troverete sia la parte teorica che la parte degli esercizi grazie per l'attenzione ci vediamo sempre con finanza sempre col vostro Andrea il matematico grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione